Stavo dicendo Voglio tornare un attimo a 69 livelli di esperienza Prima cosa Seconda cosa ragazzuoli Dobbiamo completare il progetto dell'Etna Cioè dobbiamo riempire l'Etna comunque Quindi dobbiamo fare quello Quello, questo Starni, grazie mille carissimo Grazie di cuore Prendiamo un poco di experience Ci mettiamo qui e ce la ciucciamo Con questo bug ragazzi non ha senso C'è qualcosa che non quadra Arrivo, grazie mille per la sabana regalata Grazie mille capo Allora Vi spiego ragazzi C'è un Ma perché sono in peaceful? C'è un problemino Hanno aggiornato Oggi La create Alla 1.20 Questo cosa vuol dire adesso? Che molto probabilmente Tutta la mia idea Al mio progetto di aggiornare La create craft Alla 1.19.4 Potenzialmente verrà ancora di più Posticipato Perché tanto Già so che se lo aggiorno Tra un po' Alla 1.19.4 Puoi uscire tutta la roba Per la 1.20 Di conseguenza Poi Sarò sempre Niente di una versione Quindi Ho deciso di Aspettare In 1.18.2 Tanto la roba da fare Ce l'abbiamo Per poi fare un mega aggiornamento In 1.20 È easy E intanto Caffettino Ora Chat Dobbiamo fare Un Un gioco Per chi guarda Questa Live Su Emerald Live Ok Dovete scrivere Adesso in chat Cosa devono commentare Sotto al video Di Emerald Live Le prime tre cose Vengono commentate Dovete commentarlo Voi ragazzi Di Emerald Live Oltre di iscrivervi Al canale Ecco Incredibile Come la prima cosa Scritta Siasuka Ecco Allora Ancora Mi sto ciucciando Con bot Di esperienza Ma guarda Bugga tutto Andiamo Andiamo In donna ragazzi C'è il live trenino Olè Vamos Vamos Va che bella L'Etna Spettacolo Ah Bellissima Raga Bellissima L'Etna Allora Vediamo un attimo A che punto siamo E dobbiamo un attimo Sistemare Il Billy 2.0 Perché il Billy 2.0 Ragazzi Ci farà esplodere Malissimo Già lo so Allora Quota lava Niente male Niente male Niente male Devo dire Ok Direi A sto punto Che continuiamo A piazzare Anzi no Prima sistemiamo qua Il Billy Volante Prima roba Ma c'è un problema Che per sistemarlo Devo fare una cosa Guardate Dobbiamo andare qui Opla Apriamo questo Tagliamo cavetto F3A Fixato Cioè È assurda Come roba E quando Questo cavetto Verso l'alto È troppo lungo Si bagga E crea Crea casini Cioè Non ha Non ha senso Come roba Ma proprio Zero E noi infatti Mo' facciamo Questo Guarda Io metto Un altro Qui Ci attacco Un altro Di questo Qua Così Tagliamo E facciamo Tac Tac No Ho sbagliato E si sale Ok Stessa cosa Qui Tac No Eh vabbè Devo Metterlo Là Allora Da come ho capito Come funziona Questo bug Così l'abbiamo Risolto Vediamo Bam Vediamo Ricarichiamo Un attimo Chunk Visto 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 Incredibile Cioè è veramente senza senso sto bug Regà Non ha senso Però va così Ok La corrente c'è ancora Io soltanto devo rigirare Questo Bam E ritorna ragazzi La lava Allora ragazzo Allora a tutti Ola Ola Bene Continuiamo Ma anche perché Vi spiego Il motivo di questa live Cioè io oggi Dovevo stare comunque Dentro questo mondo di minecraft Per due ore Per riempire l'etna Quindi ho detto Ma sto mondo Me ne vado in live Facciamo tutto Quanto in live Documentiamo tutto E nel mentre Facciamo anche altro Capito Ecco Ma tra poco Mi sa che il trenino Ripartirà Ma sapete che Dammi un attimo questo Io Ragazzi Devo mettere A 3.50 Di bucket Ma dovrebbe ripartire Bam Capo Arrivederci Allora raga Ola a tutti Ola Ok Cioè guardate Quanto la piazza Velocemente La La lava Che poi Voglio provare un attimo Una roba che Ho un dubbio Ho un dubbio Ma vi spiego Allora Guardate Guardate ragazzi Quanto va veloce Vedete Fa 2 di lava A botta Ma se facciamo così Ne fa 3 Guarda Guarda è più veloce Guarda Se faccio così Guarda Fa 5 a botta Vedi Non ha senso Vedi Quanto è veloce Ora Se adesso faccio Così Guarda Ma se è fermato Non so per quale motivo Aiuto ragazzi Ah mi sa che Fini di piazza Dobbiamo alzare quella Per Ora vi spiego Come ho capito Questa cosa Praticamente I tubi Non hanno Una portata massima Praticamente I tubi Si adeguano A quello Che gli entra Quindi se noi Mettiamo più tubi In output E più tubi In uscita Praticamente Sposta più roba Allora Dobbiamo alzare questa Io non so se sta funzionando Io la alzo così Ecco Ok La sta piazzando Vedi Funziona Ma se la alza ancora Dite che funziona Boh Parebbe di sì Ok Capito E' veramente senza senso Quindi io adesso C'è Vedi Fa Due alla volta Faccio così Direttamente Ed è più veloce Poi potenzialmente C'è Quello lì Che è un solo Output E fa Collo di bottiglia Diciamo Però Oh E' palesemente Più veloce E a noi va benissimo Come roba A sto punto Vai a Perugia E fai la fabbrica Di cioccolato No No Ok A posto Raga Allora Mentre che Qui Riempiamo Tutto Noi abbiamo Un paio di progetti Inizio speso Vediamo se vi ricordate Quali Allora Questo Lo piazzerò Temporalmente Qui Riguardatelo Per favore Ne metterei qua Adesso Le rotaie Facciamo così 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 Aia Affiduso Oh Ma voi Ti sei permesso Ah ma è arrivato Al massimo Raga Dobbiamo mettere Un altro upgrade Qua dentro Ok Allora Questa piscinetta Io la lascerei Per ora Qui Top Eccola qua Bella pulita In che raga Ma già l'ha svuotato Ma non ha senso Ci metterà un botto Vabbò Allora in realtà Come i progetti Che abbiamo Per ora Lasciati in sospeso Che sono un attimo Anche da capire Che fare Allora È La segheria Oh Capisco Capisco Annoto Annoto Eh 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 E come cacchio Lo stacco Oh Ok Raga ma che minchia È successo E perché Ho Riperso La colla Ah ma Ce l'ho qui La Scusatemi Raga Sono stupido Ma che è successo Ma Allora aspetta Facciamo pulizia Contatti Oh Ok Ok Eh Raga Praticamente è cresciuto Un mega alberone Che ha fatto danno No Non voglio fare questo Ma Ambigua come roba Ragazzi Ragazzi non so che Sotto stanno girando Fast and Furious 11 Boh Tutto molto strano Devo dire Va bene così Va benissimo così Raga Non facciamo domanda Ce la possiamo fare eh Ma è un mondo Normale Che cos Definisci Normale Definisci La parola Normale Cos'intendi Per normale Ok Perfetto Perfetto È un mondo in sopravvivenza Ragazzi Che cosa vuol dire È un mondo in sopravvivenza Sono confuso Dalla domanda Perché penso che sia palese La risposta Sono confuso Raga È normale che sia un mondo in sopravvivenza Sono in survival Forse intende dire Se è vanilla Sì è vanilla Ragazzi È l'aggiornamento 1.25 Questo qua Ok Me l'ha passato Letteralmente In una penetta USB Mia madre Ok Perché ha conosciuto Il signore Mojang Diciamo Con qualche favore Gli ha dato poi Minecraft 1.25 Per me Sì 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 Grazie mamma Allora Allora Non ho capito Cosa sia successo Qui Non l'ho minimamente capito Ma Mo dovrebbe ripartire Senza Allora O c'è qualcosa Che è impostato male No Mentre è tutto ok È giusto Ah Ma non è che è questo Ah se faccio così Però questo non è più collegato No Col set Lo prendiamo Il Sì 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 Vediamo un attimo Con set 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 Olè Ci siamo Ci siamo Ok Vediamo un attimo se funziona Anzi Ho del bon meal nel mio Sai no? Da qualche parte Del bon meal No A posto Con te Grazie mille per i nove mesi Carissimo Sono un orso Grazie mille anche a te Ok I raid e ciasi Hanno raggio di uno Quindi quando te ne vai E poi torni Per caricare C'è anche di parte Perché prima si era spento Quindi si è attaccato alle foglie Penso che sia Proprio Quello il problema Penso che proprio c'è entrato Anche io stavo pensando che Il problema sia quello Ma ora poi Lo notiamo subito Comunque Lo notiamo subito Bellabri Un attimo controlliamo L'Etna E senza lava Però sta andando Cioè dobbiamo aspettare Che arrivi il carico di lava Allora In chat Siamo senza moderatori Giusto Non c'è nessun mod In chat Ok Che sei tu Ok 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 Allora tutto ok Ci sono io come mod Guarda Alexpizzasette Penso che tu sia Una delle ultime persone Che potrebbe diventare Mod su questo canale Uno perché Trattino basso Le nick Due perché Hai pizza nel nome Mi dispiace Eh la pura verità Allora così funziona Allora Io qui l'avevo staccato Ma dove ho riattaccato Ok si manca Il La shaftina Stucca Ok E questo qua Olè A po' Pulito Eccoci qui Perfetto Ricontrolliamo Un attimo Se È tutto ok Quindi Bam Dovrebbe scaricare Adesso subito La legna Esatto Avete visto Per caso Un attimo La cam tremare Per caso Vedete la cam tremare Ragazzi Diciamo che Qualcuno Ha deciso Di grattarsi Sotto il mio monitor E Ertu Sì Sotto il mio monitor Io Letteramente Ragazzi Ho visto il mio monitor Fare Così Vediamo Attimo Se il gatto Funziona Sì Funziona Fa miau Ok Se fa miau È tutto ok È un pochino Come il Kerberos Che quando C'è il rumore Del tubo È tutto ok È tutto ok A posto Raga Farmi di legno Per ora sta andando E Uh Lo piazzo qui Allora Fatemi posare Ah ma qui Mancano dei barili Ecco In realtà Mettere qua dentro Dei barilozzi Non mi dispiacerebbi Magari Li facciamo Freschi freschi Con il legno Appena munto Aia Dammi legno Quattro Dammi altro legno Otto Vai Legno appena munto Fresco fresco Ma se puoi avere Infatti ragazzi Ma ci pensate che C'è Il Sapete che c'è il Come si chiama Ci sono Certi alberi O certe piante Che lasciano Tipo Una resina Una sottospecie di roba Lattiginosa Ok Anche lo stesso lattice Per esempio È una roba vegetale Ok Di conseguenza Quando Lo prendono dall'albero Stanno mungendo L'albero C'è È una domanda Abbastanza Seria C'è Come viene definita La mungitura Di un albero Più o meno Non è proprio così Però sì Ok Ho detto Che è una domanda Seria Oh Aspetta Perfetto Qui come siamo messi Ok Qui tutto spento Ed è giusto Che sia spento Perché qui È No No Perché minchia È esploso Il cavetto Qui Che cavolo È successo Ma mi si è fulminato A mezza centrale Ah Ok Ma dovrebbe andare Vediamo Ok No Non l'ho sentito Amiciano Perché sto preparando Tutto Non l'ho sentito Audio Anzi Devo bere Paolo Grazie mille Per i tre mesi Ebbene Quando uscirà la mia texture Per La tua texture Per 1.20 Ma in realtà Dove già andare di base Dove sentire Ragazzotti Della texture Ma ho finito Ma ho finito il cibo Allora Allora Mi serve Il backpack Questo Ok Che mi Automangia Ok E qua dentro In realtà Abbiamo le balle di fieno Per fare i panini E niente Ragazzi Dobbiamo aspettare Che qui Allora Infatti sapete qual è Che arriva Poca lava Arriva veramente Poca lava Quindi E' un po' Un problema Perché vedete Adesso Piazza questa lava Qui Che è già bella Che è andata La prende da qua Servirebbero più Vagoni In realtà Servirebbero più Treni Il problema E' che Ora come ora Con la ferrovia Fatta così Non possiamo neanche Usare più treni Perché si vanno a schiantare Bella Vincent Grazie per i 28 Dovevo trovare un modo Allora Lava Allora Con il super hit Noi potremmo Produrre della lava Però secondo me Non è lava Che basta Cioè non basta Come lava Sempre meglio Del nether Non c'è Molta alternativa Dobbiamo Per forza Aspettare così Stare così Allora in realtà Aspetta Una roba che possiamo fare È questo Andiamo al volo Del nether Ho un'idea Ho un'idea Ho un'idea Si ci sono i vari Semmafori eccetera Però è un lavoro Molto lungo E vuol dire Che allunghiamo Questo progetto Banale Perché comunque riempire L'etna è abbastanza semplice Un'operazione Deve fare il treno La rendiamo Molto più complessa Mentre Possiamo Dargli Un po' una mano Così Guarda Perché Mentre questo Si fulla Che comunque È questo Che è lento Secondo me Sapete È questo Che è lento A riempire Allora Dobbiamo capire Un attimo Qui come Dare di più Velocità Al broschi Perché mi sa Che comunque Non basta Poi la La corrente Qua dentro Perché Produciamo Veramente Poca corrente Perché Già così È più veloce Allora Ok Ho un'idea Dobbiamo trovare Intanto Un modo Per Aumentare La velocità Di trasporto Qui E da come Abbiamo capito In realtà Io posso fare Questo Adesso Non servono Due pompe Ne basta Una Quindi Se io Spacco Questo E faccio Così Questo È più veloce Esattamente Questo Ora che va Più veloce Dovrebbe Dovrebbe Addirittura No Figlio di Buttana Dovrebbe Dobbiamo Spostare Questo Dai Dove Cazzo Allora sta Ma io manco Ti vedo Allora abbiamo un problema Che risolveremo subito Prima Rotella Allora Questa via Facciamo Praticamente Così guarda Uno Due Tre E qui Mettiamo la pompa La si gira Rotella La si mette Così E questo Porco No 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 Allora No 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 Infatti Quello che sto facendo Mettere tutto più veloce Dovrebbe caricarlo Alla velocità della luce adesso 2000 Quanto consuma 2000 Ok No L'ho trollata L'ho trollata Ok Sistemato Io non so se Ce la fa di corrente o meno Spero di sì Non lo so Aspettiamo che torni Il treno Però già Con questa Tattica tecnica Dovremmo aver fixato Cioè Deve essere molto più veloce A riempirsi Eh Lo scopriremo tra poco Appena tornerà Allora dovrebbe tornare subito Comunque Perché lo dovrebbe Suotare Tipo A tempo zero Però ci sta mettendo tanto Se ci pensate Per chi non aggiungi la Jade Simile alla Wila È perché mi piace di più Utilizzare gli oggetti Proprio delle mod Per controllare Tutto Mi sa un po' troppo Di cheat Come roba Perché ti dava Tutte le informazioni Quando dovresti Craftarti tu Degli oggetti Per averle Ragazzi Dimmi che arriva subito Il treno Per fuori Mamma mia Dimmi che arriva subito Sto treno Please Ragazzi Arrive il treno È finita Fa il devasto No comunque Non so perché Non sta arrivando Non è che Si è schiantato Contro qualcosa Ma non penso Vabbè nel mentre Io mi porto avanti L'ho trollata Ecco No regà Non può essere Pure qui Pure qui No regà No 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 regà Non Non lo accetto Perfetto Nessun problema Niente Questo qui Si fulla Non arriva più Comunque È vero No 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 Artù Fermo No regà Ha fatto Abbiamo finito Abbiamo finito Che ha fatto E non lo vedete Tipo Allora Ho un'idea Se volessimo portare Una fonte di corrente Qua dentro Quale potremmo utilizzare Potremmo fare E no Perché l'acqua Non possiamo utilizzarla Qui Quindi non possiamo Fare un boiler Qua dentro No non possiamo Usare i biotanoni Niente Perché servirebbe L'acqua Capo Ciao Ti sei svegliato Vieni Mettiti qua Ecco Ecco Come stai Come stai Il mio gatino Come stai Tu Io Devo capire Perché ti gratti Le orecchia Stupido Ma ti sei tutto Leccato Qui Artù Che schifo Dei usci Vabbè Niente ragazzi Lui fa quello che vuole Non c'è L'energia Nucleare In questo pacchetto Ragazzi Il treno è esploso Derajato Non so che sia successo Serve più corrente Dentro il nether No Ma perché Sta fermo lì Allora O si è riempito Quello No è Ma Ma Allora Che energie Possiamo utilizzare Allora Aspettate Abbiamo Pache d'ice Compresse d'ice Ok E abbiamo poi Il Blue ice Noi potremmo Utilizzare Cioè possiamo fare La stessa tattica Di Non questo Ma di questo Molto compatto E' super semplice E' super semplice Ok Blocco di uranio Facciamo questo E via Il grandissimo Mio padre Esatto Facciamo Tipo 3-4 Di quei generatori Li portiamo nel nether E via Perché basta Velocizzare Il trenino Che fa avanti e indietro Ed è fatta Allora Facciamo i Termo Termoli Te Te Termo Eccolo Vuole questo Che si fa con questo Ah Vuole il copper wire Ok Andata Copper Dobbiamo smasciarlo Vai Do dunque Do dunque Do dunque Ok Abbiamo Le cutters Qua dentro Sì ma sono mezza Andata Ne facciamo Un altro Dentro Ok Nel mentre Questo Lo facciamo Questo che si fa così Giusto Sì Ok Abbiamo 7 Di blue ice Domanda ragazzi Io spacco il blue ice Con il piccone Normale Me lo droppa O serve sempre Il sick touch Non è brutto Non è brutto il dipot In brass No Non me lo da Ok 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 Sdudunk 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 Sopra Eh no Penso che qui Sia fixato Come bug Perché era un bug Quello di minecraft Di qualche versione Vecchia Ok Allora Dobbiamo fare questi Questo Questo Ne facciamo un botto Fatto Questo Vuole questo Tac Fatto un botto Questo Tac Direi che bastano Questo Tac Tac 9 Ok Eh a voglia 2 sono pure in più Ok Che serve Adesso soltanto Un pochettino di uranio Molto easy Allora Penso Weekend O settimana prossima Faremo qualcosa Con Fieric Opla Servono Vabbè Fatti un pochettino di più Ok Connettori Ce li abbiamo A posto Vai Andiamo un attimo A migliorare L'impianto elettrico Nel Nel Nether No Non si può fare Non c'è una roba simile Tutto il pacchetto Ragazzi Ha uno stile Steampunk Slash Inizio Novecento Ok Quindi la base È la corrente Elettrica Non c'è nulla Di super tecnologico Diciamo Allora Dobbiamo fare qui La nostra centrale Elettrica Fatta con questi Io direi che Facciamo la seguente cosa Qua c'è una batteria E prende la corrente Da Ok In realtà Possiamo farlo qui Quindi facciamo tipo Questo Facciamo Uno Due No Tre Quattro Cinque Sei E una set Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Ok Questo qui Vorrebbe esso già produrre corrente Perché come funziona questo generatore Tu metti Caldo Freddo Produce corrente Ok Prendiamo sette di questi Sette di Vabbè di sti cavetti E facciamo così Ora In nether Ha una buona fonte di corrente Per tutto quello che dobbiamo fare Tant'è che Possiamo adesso pure permetterci Di fare una cosetta Allora In primis dovrei Portare questo Bello alto Ok E qua E qua Abbassio Fino Non si ferma Ok 180 F 120 Ottimo Sotto si dovrebbe bloccare E infatti Ok 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 A posto Cioè ma oggi Pandora 4 Sì ragazzi Pandora 4 esce proprio oggi Sicuro Tranquilli Proprio oggi c'è Pandora 4 Ve lo posso assicurare ragazzi Parola di nuova Oh dovrebbe andare Sì Vedi Ci dà la scossa Ok Quindi ma regà Questo proprio Lo butta un casino La lava E sarà molto veloce Andiamo Ok fatto E vicino all'Etna Non dovrebbe caricare i chunk Ma in realtà sì Perché ci ho messo un chunk loader Noi infatti andiamo subito a vedere Raga Pandora 4 Sarà Un periodo post estate In realtà E anche perché è un poco Lentino Allora io ho messo Qui Il chunk loader E Ah regà Guarda che Non ho caricato Questa parte di chunk E quindi per questo Non andava Ma ho un load Questi che sono Tipo inutili Ok E che non si capisce Tanto con questa griglia Ok Aspetta aspetta che voglio vedere Adesso quanto è veloce Un attimo Andiamo subito nel nether Certo calcolate che c'è anche C'è almeno un minuto Di trasporto Di tempo Quindi Un poco lentino C'è Eh deve aspettare Un mese Vuol dire Brody Deve aspettare il 28 Allora Ok Facciamo una cosa Vediamo se 400 li prende Ok No No comunque È molto veloce Ora a scaricare È veloce A scaricare Cioè A caricare A scaricare Quindi Ci siamo Secondo me ci metterà Un minuto A caricare Un minutino Neanche 30 secondi Per il percorso Un minuto A scaricare Quindi noi Ogni 2-3 minuti Abbiamo 400 Di lava Vediamo Ok Partito Lo cronometriamo Lo andiamo a cronometrare Ragazzi Appena arrivo lì Preparate il cronometro Per favore Vi dico io Quando attivarlo Pronti con il cronometro Andiamo a quanto tempo Ci mette Vi do io Il via Pronti Appena arrivo a qui Appena arrivo a qui Appena si ferma Partita E adesso Ora Fate partire Vai Ok Praticamente ragazzi Dobbiamo Stopparlo Quando sta Per ritornare qui Quindi Prendiamo il tempo E ci siamo E ci siamo Ma proprio salgo Direttamente Io non so cosa sia questo mondo Ma ti seguo da molto Vuol dire che non mi segui per bene Perché è la Createcraft Cioè È la serie principale Per ora Intanto ragazzi A scaricare Quando ritorno a stop Intanto Efra mi dici A che punto è adesso Di timer Che abbiamo Che ci mette A scaricare la lava Almeno 50 secondi Ok quindi ci mette Un minuto Regà A scaricare Ok siamo partiti Ne siamo Un minuto Quindi Ci mette Un minuto A caricare E un minuto A scaricare Ok Sono già due minuti Vediamo ora Qua di tempo Dovremmo arrivare Secondo me Nel nether Lì Intorno Ai Un minuto e mezzo Un minuto e quaranta Ok Ok siamo nel nether Un e trenta adesso Ok Perfetto E ora stiamo a caricare Siamo un e quaranta Perfetto A logica A due quaranta Dovremmo ripartire Ok Vediamo 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 Prendiamo il tempo di tutto Intanto Salica Grazie mille per gli otto mesi Come stai? Come va? Questa roba di prendere il tempo Comunque mi piace un botto Sapete? Perché è bello? Perché ci facciamo tutti i calcoli Capiamo più o meno Quanto tempo ci può mettere Due e dieci Vediamo Due e trenta Ok Siamo a partire Circa due e trenta Due e trentasei Vi sostituite due e trentacinque Due e quaranta ora Quindi ci siamo Ok God abbiamo beccato il cane suca Ok Ora ragazzi Il timer dovete fermarlo Appena Ci fermiamo lì Abbiamo avuto Abbiamo un ciclo completo Vediamo Vediamo Già tre minuti Ok raga Potete già fermare il timer Bam Dovremmo adesso avere ragazzi Il tempo completo Di un giro Di treno Tre e venti Ok Quindi in mezz'ora Piazza Quattromila blocchi Di lava Circa Ci metterà Un'ora e mezza Riempirlo tutto Secondo me Per quanti blocchi Possono esserci qua dentro Ci metterà un poco Qui nel mentre Possiamo trovare Possiamo metterci a fare altro Veramente Non ha senso che stiamo qui Fermo a guardarlo Perché ci metterà un botto Allora Ma un pipe Quanto trasporta È Infinito Praticamente Il tubo Trasporta La La pompa In base a quanti Input e output Ha Cioè facendo questo Tu dici Vabbè E trasporta lo stesso Rispetto a così No Facendo così Trasporta di più E non mi chiedete Il Qual è il senso Di tutto ciò Ok Comunque Questo l'abbiamo fatto Andiamo a posare Andiamo a vedere Adesso il resto da fare Dai Abbiamo tante cose Da fare in giro Per la serie Da abbellire Da fare Ok Allora Intanto Stelite Dobbiamo aggiustarle Giornatori fatti Allora Sarebbe Veramente Ragazzi Di iniziare Il progetto Del grande Coso Come si chiama Il progetto Del grande Magazzino Ok Come anche Da collegare Questo Al Al Kerberos Abbiamo soltanto Però da progetti Veramente enormi Ma 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 c'è un zombie Qua dietro Mi sa Allora Per il magazzino Ragazzi Dobbiamo capire Un paio di cose Noi Perché Allora Il magazzino Già vi dico Ho La mezza idea Di spostare Tutti questi Container Che contengono Il milione Di biscotti Da un'altra parte Quindi Alexa Dove fanno I biscotti Più buoni Del mondo Tradotto Da Bacconismagic.com I biscotti Linzer Sono conosciuti In tutto il mondo Come i biscotti Natalizi Preferiti Originari Dell'Austria A proposito Hai una nuova notifica Non mi frega un cazzo Puoi sentirla? No No Alexa Dove fanno I biscotti Più buoni In Italia Tradotto Da TheAtlantic.com I biscotti Più famosi Della Toscana Si chiamano Cantucci O Cantuccini Dorati Croccanti Tempestati Di mandorle Intere Il più delle volte Serviti Con un bicchiere Di vino Da desservi In santo Da sorseggiare In intingere Ragazzi È arrivato il momento Di fare Pisa Prossimo progetto Pisa Tocca fare una torre storta Si vuole in Toscana Si vuole in Toscana Allora Allora No Perché vi spiego Io nel mentre Molte cose Non le sto facendo Per questo motivo Poi mi dite anche Il vostro parere Perché fare tante cose Molto pesanti Messe qua vicino Rendono proprio Questa parte di mondo Pesantissimo Esempio Tutte le robe inutile Di come Questo sistema qua Di magazzino Io andrei a spostare In una parte Che non viene caricata Perché non ci interessa Non è una roba Che usiamo sempre Capito E il magazzino Centrale Dobbiamo farlo In modo Dobbiamo fare in modo Che poi sia collegato Con tutto Ma il problema è Come lo colleghiamo Con tutto il resto E in più Sarà collegabile Con tutto il resto Farà laggare Come roba Bisogna testare Io non ho avuto modo Di testare questa roba Intanto qua per favore Spacchiamo Ho un poco di dubbi Capito Che mi stanno Bloccando Dal fare questa cosa Del mega magazzino Serve proprio Da provare Prova a fare proprio Un mondo In creative E provare tutto Perché sono quelle cose Che poi Le vai a fare Rischi che ti fanno Laggare a schifo Devi rompere tutto E sinceramente Non voglio fare Una roba simile Ok Ok È già tornato Ok Mi ha sbagliato È stato più veloce Capo Comunque Uno di voi Ieri mi ha detto Eme Ma ora che non porti La lava In Calabria Non si fermerà La centrale Vi faccio un attimo Vedere ragazzi Rispetto a ieri Quanta lava C'è ancora Dentro la centrale Ragazzi 76% Abbiamo Perso In un giorno Soltanto Il 24% Un giorno Di streaming In più sono stato FK Dentro al mondo Per far andare avanti La farm Insomma Ne abbiamo veramente Qua un casino Quindi No problemo Ok Allora Farmi di alberi Vediamo se Si è ricasuto Quel bug Non sembrerebbe Ok Allora Per questa Zona qui Per queste Farme fatte così Cosa vogliamo fare Regà Vogliamo Mettere Diversi tipi di alberi In un solo recinto O facciamo tipo Due recinti E separiamo Gli alberi Perché comunque Abbiamo noi Sapling 1 2 3 4 5 6 Fare Casomai Due recinti E fare 3 3 Non sarebbe Male Quindi in realtà Potremmo iniziare a progettare Un altro recinto Però Dove lo facciamo Qua sotto Sarebbe Sarebbe Tipo Da fare Qui In questa zona Qua Oppure Fare Più recinti Ma Più Piccolini Perché Non so se È così Grandi Ha senso Farli Allora Ammettiamo Volessimo Fare Dei recinti Più Piccolini E lo andiamo A fare Tipo Spacchiamo Qua Ok Ne mettiamo Uno Tipo Qui Questo È il centro No forse Più in qua Qua Avremmo Quindi Uno Due Tre Quattro Di raggio Che gira No anche Cinque Mi sa Uno Due Tre Quattro Cinque Uno Due Tre Quattro Cinque Uno Due Tre Quattro Cinque Sono Piccolino Così Uno qua Ci sta Secondo Non è male Come Come roba Ne potremmo mettere Uno qua Poi Anzi facciamo ecco già una Cosa Super Tactics Ovvero Dammi questo Non me l'ha dato Il legno da qui non possiamo prenderlo Questo è cos'è il legno di spruce però Serve il legno di spruce Andiamo a prenderlo al volo Vediamo se qua dentro abbiamo ancora del legno di spruce Perché voglio farlo nello stesso modo Eccolo qua Mi serve Questo tavolo Tinker Il carpenter Venghi con me Tavolo del carpenter No ma perché si è messo storto Vedete qua Ok Eh no aspetta Ah no è lo spruce strippato però Vai Vediamo se così ci sta Pisa da Toscano non l'accetto Oh no Un livornese allora Tanto è così Cioè Allora Dobbiamo fare il contorno Così Dobbiamo cercare di fare un cerchio Allora Tatatac Tatatac Tatac Ok dai Così ci siamo Abbiamo fatto un cerchio Dai No No Voilà Qui tocca fare così Guarda Ok 3 Blocco 1 2 Blocco 1 2 1 2 3 1 2 Blocco qui 1 2 Olè Questo qui ragazzi è un altro Ok Io che sono Livornese Eccoci Oh si raga Prima Quello sarà Napoli Ve lo dico Ma prima che ci arriviamo Ok Allora Secondo me Già questo qui Com'è Idea e base Ci sta Minchia quanti Semini Togliamo Togliamo Perchè Perchè secondo me Un motore Usiamo 3 Motori Diversi O uno Poi conto Energia usa 15 FE Allora Allora Prendiamo un attimo In realtà i motori ce li abbiamo Non è un problema Quindi Casomai Usiamo il motore Via Prendiamo questo Aspetta Il costo si chiama Il bearing normale Dove è questo Mechanical bearing Ok Che non abbiamo Perchè abbiamo Soltanto Lo sticky mechanical piston E il windmill bearing Intanto il radial chassis Ci serve E niente No Dobbiamo per forza Craftarlo Ne craftiamo già due E via Svamos Raga ma qualcuno di voi Perchè non mi fa Qualche esempio Di Come si chiama Di roba per portare La corrente È la Di Avete capito Come si chiama Che si chiamano Di tralicci Dell'alta tensione In un mondo di minecraft Poi mandate gli screenshot Perchè infatti così Non mi fanno impazzire Sono troppo anonimi Capito Bearing No Mechanical 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 Bearing Uno due tre Vai Gli chassis Gli chassis Facciamo Ma facciamo Per gli chassis Va Ok Dovremmo avere Ah le seghe Quante seghe abbiamo Eh Regà Dobbiamo fare le seghe Le mechanical segues Gnottra Gnottra Che arriverà Penso ormai Non prima di un mesetto Perchè sarà 1.20 Eccetera Si spera Molto probabilmente Questa mod La saluteremo Perchè non l'abbiamo Più utilizzata Non l'abbiamo più Utilizzata Completamente Secondo me Non Per come Impostata la Createcraft Non Non ci servita Più di tanto Capito Quindi Non Non so Potrebbe essere Che non ci sarà In futuro Ma Potrebbe essere Sostituita Da una mod Magica Si no La Sicilia Ha Ha un sacco Di Di piatti Roba particolare A voglia Ma perchè Rettamente La Sicilia E l'unione Di non so Quante Culture Araba Greca Ehm Zona Quella Più Questa Del Marocco Spagnola C'è C'è un C'è un bordello Regà C'è un casino Di roba Molto probabilmente Lars Nouveau Esatto Molto probabilmente Sì Allora Dove fare una cosa Qua c'è Il cavetto Della corrente Una certa Eccolo Eccolo Tocco questo Ragazzi Esplodo 2000 Volta Allora Calcolando che Dobbiamo farlo uguale a quello Questo sta qui Questo sta qui Questo spaccato Dovevo mettere Questo Così Così Uno 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 Due Tre Quattro Ok Ragazzi Arrivire No Ma non ho fatto la roba Di che Inventory No E Come si chiamano Quello che si danno il bacino Ogni volta Non li trovo più Eccolo Storage Interface Ah ok Abbassano i shoot A questo Ok Stuc E qua ci siamo Poi Minchia Non l'ho fatti Deployer Le seghe sotto Quindi Uno Due Tre Quattro E cinque No Aspetta Questa no Eh no Minchia Non lo capisco Ah no C'è la sega sotto Ok Quindi Questa sotto Poi facciamo una cesta Da mettere sopra Per sicurezza Quindi Due ceste Qua Qua E i deploy Oh ne ho sei precisi Ehi la Messi Puliti così BAM Ora Questa Soltanto questo è attaccato. E questi qua dietro. Ok. Va bene. Ale, grazie per i due mesi. Boh, io spero di non fare cazzate, raga. Allora. Allora, sarà tutto molto semplice, perché avremo questo, che va qui. Shaft, uno, due, tre. E già ci salutano. Ok. Prendiamo la roba della corrente. L'abbiamo fatto. E uno. E uno, due. Due cavetti. E le forbici. Emera dell'elettricista è tornato. Stucca. Allora. Praticamente. Si fa così. Qua. Da qui. A qui. Da qui. A qui. L'altro cavetto mi sembra sussucato, malissimo. Da qui. Regà. Oh, cazzo. Oh, cazzo. Assenso. Assenso. Ok. Aspetta che... Se l'è presa. Ormai è sua. Ok. A posto. No. Questo, ragazzi, come lo pulisco? Come gli tolgo la... La roba della... Qua. No, mi sembra non posso toglierlo. Vabbè. Adesso dovrebbe andare comunque. Cioè, sì. Adesso qua ci metto tipo... Questo. Vediamo. Sì, mi ha girato il senso opposto. Però aspetta. Tipo fai meno otto. Meno sedici. Dai. Ok. Ah, regà. Doveva andare, eh. No, ma mi tocca questo. Ma perché mi tocca la botola? Bro. Ma ti sembra il caso? No, regà. Che tilt. Ma non c'è un modo per far sì che non mi tocca la botola? Cioè, che non interagisca con la botola? Tipo, ora lo fermo. Prendo questo. E io gli metto che... Deve mettere il sapling. No, regà. Tocca sempre la botola. Provo a mettere un blocco sopra come l'altra. Sium. Ahia. Figlio di buttana. Ok. A posto. Ce l'abbiamo. Ora, la vera domanda è... Funzionerà intanto? Cioè, stiamo qua dentro tutte... Vabbè, questo che teniamo, dai. Bam. L'ultimo deployer non ci dovrebbe essere. Eh, ma c'è anche lì... Mi fa niente che... Vedere una roba. me lo piazza fuori. È vero. Quindi non essere quattro seghe. o comunque togliere... No, togliostante un deployer. Farlo così. No, no. Ok. Dovremmo esserci. Vabbè, ora per come abbellire tutto... Lo vedremo. Non è un problema. Ok. Ok, qui sta andando. Mettiamoci un altro tipo di sapling. E facciamo per il collegamento per il vault. E ci siamo. Nel mentre... Vediamo a che punto è un attimo, ragazzi, l'Etna. Saranno almeno 20 minuti che non la controlliamo, se non di più. Allora, già che questo è pieno, vuol dire che... Sono morto. Vuol dire proprio questo. Vuol dire proprio questo. Buongiorno. Vuol dire che dobbiamo alzare... Questa qua. Ah, ma... Regà, guarda quanto l'hai riempita, però. No, ragazzi, ci siamo quasi, eh. Ci siamo quasi. Non manca tantissimo. Io l'alzerei... Di poco, diciamo. Cioè, l'alzerei tipo... Vediamo fino a che punto, eh. Toh. Forse... Ancora di più, no? Alza, alza, alza. Alza, alza. Alza, alza, alza. Ok. La piazza la lava? Sembra di sì. Sì, 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 la piazza è lo stesso, ok. Eh, regà, guardate che... Ci siamo. Secondo me questa qui... Allora, come altezza ci siamo. Come roba per la lava. L'abbiamo quasi riempita, dai. Ok, c'è ancora mille blocchi di lava da piazzare. Ma io sono un cliente moddato. Fatto da me. Allora. Qua. Sapling, regà. Allora. Darkhawk. Spruce. Jungle. Acaccio. Quale manca? Sono sei sapling, ragazzi. Noi abbiamo messo quattro perché non ho preso l'OAC. Che sapling manca? Manca. Cosa manca? Il berch. Il berch. No, il cherry non ce l'abbiamo per ora. Allora. Io... Allora, come voglio suddividerlo? Io direi che facciamo... Jungle. Allora, io metterei lì OAC e Spruce, che sono i due principali che utilizziamo. Qui, jungle e Akasha, volendo. E nell'altro mettiamo berch e Darkhawk. Quindi, qua abbiamo detto jungle. Facciamo... Jungle al centro... E Akasha fuori. Vediamo che esce. Ok. Vai! Ah, però vedete che com'è... Che il centro non lo utilizza più di tanto, eh. Ah, lì non lo ha... Ah, ok, aspetta. Lì non l'ha piantato perché... Non perché è storto, ma perché ha finito già i cosi, sapling, ok? Allora. Faccio adesso una cosa importantissima. Il collegamento. Dobbiamo portare tutto qui per ora. Noi facciamo che... Si fermerà qua. Quindi. Ehi là. Piacere, mi chiamo Emerald. E mi scordo sempre dove ho le casse. In giro per il mondo avrò il doppio degli oggetti. In tutte le varie casse che ho scagazzati in giro. Sicurissimo. Pia un attimo questi. Questo. Soca. Ecco. Allora, serve un blocchetto. E un funelino. Allora, il blocchetto dovrebbe stare qua. Sì. Ha dato il bacino. Funziona. Olè. Tac. No, al contrario. Ok. Funelino. E let's go. Ce l'abbiamo. Easy. Guarda, ha già fatto il lenio di giungla. Buono. Buono, 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 buono. Allora. Adesso. Farei una cosa. Inizierei intanto. Già l'altra. Cioè, non perdiamo altro tempo. Dove la vogliamo fare l'altra? Io la farei da questa parte. Perché così colleghiamo poi lì. Capito? E ti dirò. Far anche un blocco più in basso. Non mi dispiacerebbe. Che ca... Oh! Ma che è? Ma che è? Ma che è sto blocco? Ma che cos'era? Sono stunnato. Oh mio Dio. Detona! Decolla! Godo. Era una coconut? Che coconut? Allora. Dove lo vogliamo fare? Allora, o lo facciamo proprio qui. Qui di lato. Cioè, o lo facciamo speculare a quello e facciamo letteralmente tipo un... Due palle e un pisello palla. Ce ne facciamo qui? Oppure... Eh... Il topolino, sì, sì. Però sotto sopra. Oppure lo più in basso. Ma allora, farlo un blocco più in basso, veramente, a me non dispiacerebbe. Allora. Ragazzi, io non ce la faccio più a tenere tutti sti cazzo all'ora di fiori. Mannaggia lo schifo. Andiamo con l'altro. Aspetta che è filto. Ok. 1, 2, 3. 1, 2. 1. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. 1. 1, 2. 1, 2, 3. Ragazzi, spero di averlo fatto giusto. 1, 2. Anche perché ho finito i blocchi. Tac, tac. Precisi! Precisi! È dritto? Aspetta, aspetta, perché c'è questo che confonda. Sì, è dritto, è dritto. È dritto. È dritto, raga, è dritto. Drittissimo. Blocchi pure precisi. È un segno. Si gode. Mamma mia, guardate tutti sti robi. Oh, oddio. Eccolo! Coconut Nut! Ma di che mod è? Ma che quelli mod storto fanno a Coconut che si vede tipo... Così. Cioè, guarda. Ma è una mod fatta malissimo. Di che mod è? F3H. Molto bella questa Coconut, ragazzi, devo dire. Tadaki di tonno. Tadaki di tonno. Buongiorno! Vediamo a che punto siamo qui. Bene, bene. Ma ha già finito? Beh, raga, ci metterà... Un botto. Però visto che con queste live pomeridiane... A parte sono belle chill, belle tranquille... Ci portiamo avanti con tante piccole cosette. Anche perché la roba ce l'abbiamo. E come se ce l'abbiamo da fare? Vi pare? Allora... Ma la posso mangiare almeno? No. Io la piazzo qui. Ecco. Ma cosa serve, scusami? Ma non serve a niente! Cioè... Ma poi anche il suono. Signore del suono? Ecco. Ragazzi, si dovrebbe fare la clip... Mandarla sul gruppo dei sub, comunque, dalla parte di prima. Ma... Mi dai un poco di... Ah... No, no, la... Questa. Dovevo fare il... Il... Il sistema qua... Per tutto. Poi dobbiamo abbellire tutto. Il centro sta qui. Anzi, aspetta. Ci mettiamo già... Questo... Qua. Che è già bello che c'è entrato. Ok. I chassi... Tac. Sono cinque? No, sono quattro chassi... E un... E quello finale. Ok. 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 Parapam, pam, 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 pam. Parapam, para... Porca troia. Allora... Allora, se tappiamo... Sono uno, due, tre, quattro, cinque... Ok. Cinque. Uno. 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 Poi... Poi... Le seghe sotto. Ah, dobbiamo prima incollare, giusto? Quindi colla. Ok. Poi serve in realtà anche questo... Incollato... Con questo... Che va otto... Qua incollato per la cassa... Le seghes... Che io... Bella carina... Ne abbiamo altri? No. No. Abbiamo tutto il resto... Ma non abbiamo i minchi di deployer. Andiamo a fare i deployer, raga. Sì, 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 sì. C'è anche la live stasera. Non so se avremo stasera... Se continuiamo con la create craft o meno, però... Sì. Andiamo in questi deployers. Ossia, anzi, a craftare i deployers. Come si craftano i deployers? Mi sembra che erano un dito in culo. Deployer. Dove sono i deployer? Qui. Eccoli qua. Minchia, lo sapevo. Ah, non c'è il quarzo? Ragazzi. È arrivato... Il grande momento. Andiamo a prendere il quarzo nel nether. Allora, raga, hola. Ah, bonjour. Oh no. No, e raga, c'è una cosa da fare subito. Nessuno ha visto niente. Nessuna prova di questo bromomento. Nessuno sa nulla. Quanto ho di zenetto? Ok. Ah, un poco di... Di quarzo. Ma in realtà dovremmo metterci un po' il fortuna 4. Ci sarà il fortuna 4, vero? Sì? Sì. Ma non l'abbiamo fatto il fortuna 4? Sinceramente mi ricordavo di sì. Devo prendere altro quarzo. Perché se no, qui... Siamo messi con le pezze nel culo. Altro quarzo, grazie. Mi devo sciciare. Altro quarzo. Questo dovrei dire che è perfetto. Ma in realtà cade nella lava. Porca buttana. Buono questo quarzo. Colè. E ti denuncia la protezione dei comandi. Aspetta un attimo. Questa è la fine che fai tu? Ecco. Sta' attento. Bella Teo. Ciao carissimo. Ciao piedini. Andiamo, andiamo avanti. Allora, intanto già mi porto subito avanti. Perché prima che casco dentro l'Etna... Pichiamo un po' di coal e carichiamo il jetpack. un po' di coal. Come si? Come si... Come si? Come si dai? Ok l'acqua poi però la basta Let's go La redstone ce l'abbiamo spero Nella cantina lì come si chiama Nella nostra ferramenta Ferramenta si è come se ce l'abbiamo Guarda qua 18 Abbiamo della Sandpaper no Paper No sugar No cane No Abbiamo della sugar cane qua dentro Sì abbiamo già della paper Uno e due E tre Easy Olè Va che bellessa Va che velocità Quanta bravura in tutto se ho Stuc Dovamo fare ragazzi cosa alla fine Ah i deployer Giusto No rega serve il brass No sta dentro il kerberos il brass mi sa Ma non lo possiamo fare qui direttamente Tanto è copper Il brass come si faceva copper e gold No Copper e zinco infatti Ma facciamo qui Tutunk Dai Si fa easy Capo dici mi sta facendo ciao ciao In che senso ti sta facendo ciao ciao Eh ma tu mi hai trovato 69 trenti di una chest Si 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 Poi mi ha mandato il seed a un noto youtuber E' una manina Bonk E siamo a quota Due manine Quanti deployer dovevamo fare Raga Quanti ne dovevamo fare Due Ne avevo già due Ne servono quattro Dobbiamo farne tre Ah ne servivano quattro Ne avevamo già due In realtà ne servono due Però ne facciamo tre Per sicurezza Vai Ok tre deployer Gli altri ce li ho qua Ah ma gli altri li ho già piazzati Ma li ho già piazzati Gli altri Si Cos'è che manca qui Ah Ma ne ho quattro ora Poi guarda io Raga per sicurezza Ne faccio altri Al massimo avanza Ma andando sono sempre utili Deployer E via Ne facciamo così Altri due Ma dove spunta sta manina Raga Ma c'è un problema Dice che non esiste Ma ce l'ho qui Ma Ma dove spunta da quell'altra manina Non l'ho craftata Vabbè Vabbè Ok set Svamos Ah ma quindi Il Il berch Vabbè lo troviamo lì Il berch Lo piantiamo Vai Ma parte Minchia Incredibile Che precisione Nova Nova Ma quindi Pandora Nova Ma Pandora Nova Ma la sub Nova Ma Pandora Sono le solite domande Allora Mi manca la cesta Ecco Nova Che hai da dire A tu discolpa Cosa Hai un altro lavoro No no Ma che dici Un altro lavoro No Ho sbagliato Questo Questo E il berch Qua dobbiamo mettere Giusto Il berch Ma anche Mettiamoci il dark oak E uno solo di berch Va Sì E qui Il Lo spruccia Facciamo gli alternati Vediamo che succede Parti Ah sì Aia No Ah Non devo farli uniti Che sennò ragazzi È la fine No Che cazzo è successo Eccoci qua E niente GG Eh vabbò Ecco Ma porca Buttina Ciao Mattia Come stai Porca Zozza No Ma perché si Bugga così No Aiuto Aiuto Fermo No Smontato la build Parti Ok Un poco di problemi Tattici Tecnici Avevo pochi 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 Perché Ah no Ok Ah no Perché li ha finiti Ok Ok Eh no Questo non deve capitare Perché se mi fa il mega giga albero È finita Allora Serve qui adesso la corrente Avendolo fatto in questo modo A logica Un momento Se io prendo pala E vado qui E faccio così Dovremmo trovare Eccolo Visto Easy Questo vuol dire una cosa Che L'ideale sarebbe mettere qua Il pisnello verde Quindi Tac Questo Allora Staccati Stucca Io mi sa che Sto facendo sempre più danno Raga Ho questo Presentimento Non so Cioè Ho proprio questa Sensazione Ok Nella tenda va bene lì Perché faccio Così Ah e no 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 Poi questo va qua Naturalmente Questo fa così E questo me lo tiro tutto lungo Per di qua Allora Dobbiamo fare questa parte Qua sotto Lumity Grazie per i tredici Grazie mille Gentilissimo Ok Questo va qua Lo portiamo Eh vabbè Questo adesso Dobbiamo capire Come Sistemarlo E abbiamo fatto Perché portiamo Questo Qui Ed era A meno Meno 16 Giusto Sì 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 Ok E da qui Portiamo qua Che gira Correttamente A 16 Ola Oh Raga qua Funzia eh Qua è preciso Li mette perfetti Ok Pulito Ma facciamo tanto Il sistema Per Ah Altrimenti Aspetta Dobbiamo setta Perché L'ha messi così Mamma mia Che cavolo Me ne fott Allora Da qui Deve andare Qui Poi Da qui Deve andare A qui C'è uno Più in alto Aspetta Facciamo pulizia Un attimo Tutti i blocchi Non ci servono Ok E Da qui Vabbè Va naturalmente Qui No Qui Porca buttana Vabbè Vabbè Ma in un Ok No Uno più Ma funziona Così Non lo so No Non so se No Non No È sbagliato Perché Ah no Ma vedi Che ho messo Male Questa Perché Questa Tira Qui Però Da qui Deve andare Qua E Secondo te È più bello Fare live Con la chat Così Oppure Come L'hai di solito La sera Che vuol dire Perché Che cambia Da ora Alla sera No E mo Io volevo Portare Sta rotazione E no Allora dobbiamo fare una cosa Raga Fermi Si deve fare Così Così Ecco Allora io farei una bellissima cosa In questo modo La roba che si alza La mettiamo qui Quindi Quindi Tac Ecco Prendiamo L'altro 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 di questo Dimmi che Funziona Ma perché M'è il senso Opposto No No Non volevo Tagliare La porta Ci sto mettendo Più tempo A fare Sti collegamenti Che Che tutti Il resto Da farm Se io faccio Scusatemi Così E metto Questo qua Mamma mia Me la devono proprio Annacare Come si deve Che maestro Che maestro Dei collegamenti Eccolo Il legno Di dark oak Perfetto Olè Oddio Ce l'abbiamo Fatto Regà Funziona Olè Questo qui Dove lo mettiamo Lo mettiamo qua Nel portable wallet Tac Stuc Stuc Olè E mi occhio Che non crescono Grandi I dark Ma non penso No Non penso Raga Allora La nostra farm Di legna Il funzionamento C'è Ce l'abbiamo Dobbiamo soltanto Diciamo Abbellire Adesso un pochettino Tutto Perché Così fa Un po' Schifo Però funziona Tutto Guarda Un'altra Coconut Ciao Coconut Allora E come abbiamo detto Il berch Ok Aspettate Un attimo Prendiamo qua Del berch Della sila Olè 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 Ah Dove Dove Setappare Questi Anche Ecco Questo Va qua Ok Ok Allora Mi serve Un attimo La La ranch Perché Dobbiamo impostare Questo Orca troia Deve 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 essere Always Place When Stop Ed No Near When Near Initial Angle Sì Questo È Oh Cavolo Minchia Raga Qua fa un botto Di dark Hawk Ora Guarda Quanto dark Hawk Farà Qui Ma No Dai Nicola Top Easy Qui ce l'abbiamo Qui Pian piano Guardate Lo sta sistemando Da solo E va Ben Bro Ma cosa ho appena visto Allora Prima di Abbellire Tutto Diamo Una controllatina All'Etna Anzi Qui come siamo messi Con la lava Secondo me Siamo un 50% Eh Vediamo No Sess Sessantanove Percento Super 8 Oil 98 Peperoncini 70 Ci siamo Ci siamo Guarda Oh Raga Ma vi posso dire Che Sembra Quasi Come Eh Che Come Che Se fosse sempre stata lì Ci sembra Sponata così Ma che Bello Poi abbelliamo Entra tutta la vegetazione Di sotto Che smussa ancora Ci sta un bordello Veramente Mi piace Vediamo A lettena Che appunto È Raga Manca Manca veramente Poco Allora Il fatto è questo A che altezza Vogliamo stopparla La lava Ma Ma Chissà se Segna poi Bottomless Supply Sapete Sapete che se diventa Bottomless Supply Veramente noi possiamo Prendere la lava Dall'Etna E diventa Nuova fonte di lava Serve fighissimo A parte che poi la vorrei Sfruttare con qualcosa L'Etna O la lava Dell'Etna Non so cosa Ma Dobbiamo pensarci Sì anche io pensavo A una decina di blocchi Dalla cima Io pensavo Sapete dove Lì A quel bordo lì Circa Quel bordo lì È perfetto Buono 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 Beh oddio Fare che Il treno Passa Qua sotto Sarebbe figo Ma È un progetto Che si farà in futuro Sicuramente Perché Non Non porterebbe a nulla Ora come ora Ok Allora Adesso Dobbiamo Abbellire Soltanto Quella parte lì E poi Capire naturalmente Tutto il sistema Di Di legno Eccetera Cosa utilizzare E così via Ma intanto ci serve Invento di connector E un crafting terminal Sì Poi serve Un hv Questi E i cavetti E il progetto Grande magazzino Dobbiamo capire tutto Dove farlo Signor Tivella Perché vedete Allora io adesso Vorrei creare Questa Zona Segheria Deve essere La fonte Principale Di tutto il legno Quindi Dei farmi Il log In automatico Farmi Il log Scortecciato Ok In questo modo Noi abbiamo Entrambi Sempre Di tutti i tipi di legno E l'obiettivo Di questa segheria Appunto La zona segheria Dove vivo io Ma infatti Cioè Lo so Lo so benissimo Rage C'è anche qua La stanzetta Per tua madre Eppure Penso un po' So che ci Ci abitano insieme Infatti Vedo Sai Due settimane di ritardo Dell'affitto È un po' un problema Rage Dovremmo iniziare A pagare l'affitto Qui Ecco Va bene L'amicizia Tutto quanto Eccetera Però Le settimane di ritardo Non va bene Allora Ma Io la La corrente Ma io la Potrebbe Far passare Tipo così Uno Uno E due Ah Grazie mille Per l'affitto Rage Buona permanenza Buona permanenza Grazie mille La ringrazio Grazie Grazie L'affitto Grazie Raga Spammate Cuoricini Un po' di M104 Per regge Ha pagato L'affitto Allora questo Vi lo metterebbe qua Questo Qui Questo qua Sapete Sapete che io farei La zona Magazzino Qua sopra Poi La farei Qua sopra Qua dentro Se tocco quel cavetto Ragazzi Io Divento Una frittata Ma sai Quasi Quasi Ok Allora Ecco qua ragazzi Tutte Le banane Siamo veramente In Calabria Ma Aspetta Ma da dove spuntano Le banane Raga Ma non c'è nessun albero Di banano Qua dentro Siamo veramente Sulla sila Incredibile Quanto è realistico Questo pacchetto Ragazzi Devastante Io Vado Fare Questo 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 E qua ci siamo Olè Beh Oddio Oddio Io farei così A sto punto Dai Cioè Almeno facciamo le cose Come è giusto Che siano Così Stucca Mamma mia Grande maestro Ma l'ho Messo Ho messo Ho messo Il punto Sbagliato Olè Olè Stunc Bam Cablata anche La segheria Perfetto Allora Abbelliamo un attimo Qua tutto il contorno Il contornino Questa parte sotto Eccetera Perché vedete che È un po' così È un pochettino Un cesso A pedali E ci siamo Allora Sapete che Questo è carino Questo è carino E Questo È molto carino Perché Stavo pensando Per tipo Qua sotto Va che bello Oddio però È più scuro No Allora Facciamo Così Oh Questo è figo Così eh È bello Sto blocco Di lato Cambia texture No Cioè Se lo metti così È carino Cioè Cioè Non è malvagio Allora Secondo me Forse dovremmo Mischiarlo Un pochettino Con Ok Voglio capire una cosa Allora Allora C'è un problema Che la mia Texture pack Rende il legno Un pochettino Più giallognolo Ed è un Problemino Cioè Cioè Non riesci a Mixarli bene I blocchi Però Ti dico Se ti metto Questo qua No Questo È troppo 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 Scuro Eh Vedi Guarda la differenza Però Visto Che ci sono Dei log Uguali Aspetta Nailed Oak Mixed Oak Log Carino Dovrebbe essere Tipo I Ho capito Faccio un paio Di questi Ok No no Ho capito Ho capito Facciamo i I Mixed No Eccoli Un poco di Nailed Ehm Ma sì Facciamo tutto Nailed Dai Vai No Allora Questo È proprio Quello Che Io non Voglio Ok 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 Si inizia un attimo A A ragionare Allora Ma io li metterei Relativamente Un po' A caso Questi Tipo 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 fai così Prendi Questi Due Muschietto Mannaggia Mannaggia Ci abbiamo Ci abbiamo Poi Anche Questo Messo Così Questo Lo si può mettere In realtà Così Ah ecco Questo qui non lo fa girare Però Ci metti Ma porca Ok 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 Di qua Di qua Non c'è bisogno Perfetto Nuo facciamo Il contornino Ok 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 Vediamo se così ha senso Ma sta Uno fuori Si lo faccio Ok intanto La cosa è importante Che non lo spacca Ok Mi serve L'ultimo di questo qua Fatto così Anzi Ne facciamo un pochettino di più Ma Ma che è Oddio C'è Rajesh Con su ma e su pa Incredibile Rajesh No Non ci gioco Con te Gli amichetti D'Omongas Basta Mamma mia Incredibile Sempre la solita storia Basta No Non 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 в Olè Allora secondo me Mamma mia Ma che sta succedendo oggi Aiuto Ah ma non ho preso lo spruce Aspetta Raga intanto la farm zitta zitta Sta appiottando eh Zitta zitta macina sta farm Dobbiamo metterci poi un sistema che Va a bilanciare tutto Che rischiamo qui che esplode Il mondo Chissà se ha finito l'etna ora Boh Ok Se metto questo qua che succede? Niente Ok Se metto questo qua Questo No Allora metto questo sopra Questo in basso Questo qua Questo lo metto qui Questo sopra Da sopra Ma raga vedete che è veramente Sta uscendo carino eh Zitto zitto No ho sbagliato Olè Tac Tac Guardo un poco Mancavano proprio due fence Cioè due Due trapdoor Cioè ne manca proprio una Ok Ok Raga Raga Io ti direi che è carino così Non mi dispiace per niente Facciamo la stessa identica cosa qui Quindi tac Tac Qua farei In questo modo Ok Ok No Ora esco pazzo a fare tutta sta cosa Devo usare Vabbè un mix di questi Hola Qua posso fare così No Così Sbagliato blocco Ok Tucca Tucca Ma però stavo scendo Mi sta piacendo Pensavo uscisse peggio Invece Invece no Pensavo proprio Una cagata colossale Invece ti devo dire Sto blocco Ha salvato tutta la build Vedere la planimetria Mo la faccio vedere Mo Mi faccio vedere tutto Allora Inizia un attimo Sopra Sopra Giù Questo qua Questo qui Facciamo questo qua Questo qui Tra poco finiremo l'acqua Mi sa Del jetpack Sicurissimo No Dove l'ho piazzata Non lo sapremo mai Giù Ok Sopra Sopra Sotto Sotto Bam Sopra Sopra Sotto Sotto Olè Fatto No aspetta Manca qui Proprio l'ultimo Mancava Dovrebbe essere qua Ma porca Olè No un blocco Sopra Facciamo qui A posto Regà Ci siamo Ecco la planimetria Non ho considerato la casa Anche Ok Poteva capitare In qualsiasi momento Tra un minuto Minuto prima No Proprio adesso Dopo che abbiamo scoperto Che abbiamo creato Una segheria Che ha la planimetria A forma di cazzo Perché io D'alto Ho pensato È una sfera Altra due sfere È carino Ci sta Va benissimo Non ho considerato il fatto E poi dall'alto C'è anche La struttura Della segheria Che quindi la sfera L'allunga L'abbiamo fatta A forma di minchia Eccoci Abbiamo creato La segheria illegale Oh Sarà il titolo Del VOD Ma porca Puttana Ma perché Finisce sempre così Ma no Regà Non l'ho fatta apposta Tendegli all'inizio Ho detto Raga ma se no Ci assomiglia A una forma di una minchia Tutti No 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 Anzi Questo oggi potrebbe essere Topolino Eccetera Quindi insomma Due cerchi Due cerchi A meno che Non sei Mister tre palle Non ci assomiglia Nessuno di noi Ha considerato Il fattore Casetta Dopo La gigapalla Ed eccoci qua Io ho perso Un'ora A buildare tutto quanto Eccetera E alla fine È uscita una minchia E poi cosa ho detto Prima Ma non è che tra poco Dovrebbe scadere il coso Dobbiamo fare attenzione Quando Proprio Quando avevo scoperto Che era Una minchia La mia vita È tutto un prank Io lo sapevo Che stava per capitare Proprio questo Io lo sapevo Ho appena preso il volo Ho detto eccoci qua Ragazzi Fittecavo? No vero No che t'ha posto Incredibile Mamma mia Che velocità Nessuno ha visto nulla No raga No raga Dai No raga Non Dai Raga No Sei che riga del cazzo Ma ci ho messo pure Tanto amore Impegno a fare tutto carino Allora Vi devo dire Visto dall'alto Così Dai Allora Non sembra tanto una minchia Raga Dai Dai No 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 È la prospettiva Che comunque Ci inganna un poco Dai Poteva andare peggio È che visto così Sembra che È tondeggiante Ma visto dall'alto Non lo è Capito? Visto Se già lo prendiamo così Non è tanto una minchia Però se lo prendiamo Da questa angolazione Che sembra che va ad arrotondarsi Lì Sembra un pisellone gigante Guarda come gira Guarda come gira tutto sincronizzato Guarda Guarda Ma che bello Vabbè raga dai Mamma mia Su Suga cornuto E intanto E intanto la segheria A forma di minchia La sega minchia Qua Sta farmando un bordello Guarda già quanto spruzza Guarda quanto dark oak log Già Regà Guarda quanto jungle No sense Tra poco sarà piena Sta cosa comunque Io infatti Quasi quasi La spe Ecco Però se la spegniamo Quando cresceranno I sapling Sarà Un bordello Sono banana Quindi non so Come possiamo Bloccare la crescita Dei sapling In qualche modo Ragazzi Andiamo a vedere Che punto è L'Etna Allora In realtà Se fermate In un punto Che non mi dispiace Non è malissimo Qui Hai visto la notizia La polvere bianca La casa bianca In che senso Eh Quanta lava c'ha ancora Eh Buono 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 Io avrei altri Due blocchetti Io appunto Fermerei lì Quella linea Altri tre blocchi Anche perché Ora sono Se non me ce la facciamo Con il carico Che abbiamo Io fermerei A st'altezza Ecco Guarda Guarda Come fa Easy Jackpollo Grazie mille Carissimo Per i prime Grazie mille Grazie mille Ok È arrivato L'ultimo carico Regà Con quello Fugliamo tutto Secondo me Con quello lì Ci arriviamo lì Sicuro Dai abbiamo Completato Il Refill Dell'Etna Olè Dai 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 È che mentre sta scaricando pure Ma poi erutta No Nicola Non Non erutterà Se erutta Questo è un bordello Perché immagina tutto questo qui Che fa Un lago di lava Fino là sotto Regà È veramente Sarà il delirio In quel caso Non deve capitare È una versione modificata Della Tom's Storage Caso Che Perché Senza Era troppo Overpower Io ho fatto Modificare Che Utilizza la corrente In base a quanti blocchi Ci sono dentro Il sistema Per dare Una questione Di progressività Eccetera Ragazzi Serve Un altro carico Per pochi blocchi Perché in realtà è quasi finito Bene Ragazzuoli Io direi che Oggi vi ho fatto Una live Col bacio Come sempre Siamo morti Un paio di volte Ma Ormai ci abbiamo fatto L'abitudine Sarebbe da capire Adesso come fare Tutti l'impianto elettrico E in realtà Sarebbe da capire Perché ecco Cioè Il problema è questo Che Se io Fermassi la farm Gli alberi Continuano a crescere E ok E appena La facciamo però Ripartire Che succede Che Si portano dietro Tutti i blocchi No E' un delirio Cocco Il cocco Decentrato Mi spacca Tantissimo Raga Comunque Raga Il dark hawk Ne sta farmando Un casino Ma proprio tanto Berce Veramente poco Mi sa che Cambiamo un attimo Due opzioni qui Facciamo Berce Berce E qui Secondo me Raga No vabbè Oddio In realtà ci sta In realtà Va bene Proprio Al massimo Posso Mettere Un sapling In più Qua Al centro E vediamo Che succede Perché Basta che Non fai I quadrati Se non fai I sapling Quadrati Non spona Il coso gigante Quindi va bene Perché se fai Il coso gigante Si crea poi Tutto il pozzo Al sotto Però comunque Ci siamo Con il legno Ci siamo Ci siamo Eh si Rega Guardate quanto Dark Hawk Spona qui Ah ma Non l'ho fatto Ripartire Vai 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 E pozzol Vabbè che il berce Non lo siamo quasi mai Quindi va benissimo Tutto Eh mi sa che L'Etna ha finito Concludiamo ragazzi Oggi con L'Etna Che ha finito Stasera ragazzi Che volete Continuiamo ancora Con la create Alle 20 Continuiamo Che abbiamo ancora Botto di roba da fare Ci siamo Finita Che dite Raga Secondo me così È il livello Perfetto Secondo me così Ci siamo Oltre Mi sembra troppo Ci sta Ok Allora Dobbiamo fare una cosa Tiriamo sopra Questa E abbiamo fatto E abbiamo riempito Di lava L'Etna Oddio Voglio provare una cosa Però Voglio vedere se ci dà Il bottomless supply Aspetta Aspetta Vediamo se ci dà Il bottomless Vedere se continua A scendere Ok Minchia Ci metto un botto È lento 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 Mamma mia No Poi adesso La rompiamo Direttamente Facciamo prima Sì No Voglio vedere se ci dà Il bottomless supply Io sto Vedendo Il tubo Vedete che il tubo Scende Vedete Appena il tubo Non scende più Alla fine E quindi Ci Ci siamo Ok Vediamo che succede Bottomless supply No E Se la giro al contrario Devo fare un attimo un test Aspettate Un attimo Così lo capiamo subito Se ce lo dà No Raga E niente Era troppo sgrava Come roba Niente Bottomless supply Mi dispiace No 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 Via Giriamo Al contrario Oh Oh cavolo Questo si è riempito ora Peccato Che cos'è Il bottomless supply È un messaggio Che spunta In questo quadretto Praticamente Ci dice Che è una fonte Infinita Quindi Ah Deve essere generata Ah si Davvero Vede la generazione Non la quantità Di blocchi Vabbè Comunque Si stacca Ragazzi Stuc E stuc Fatto Ragazzi L'Etna È bella pienotta Pronta A lavare Catania No 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 Catania No Povera Catania No dai Vabbè Un pochettino Sì Non sarebbe Però Diciamo che Se rutta L'Etna Arriva anche da me Dove abito Io In Sicilia Quindi diciamo Che non è il top Che non è il top Che non è il top